Questo video è dedicato alle persone che già utilizzano GeneratePress e il plugin GenerateBlocks per creare i propri siti. Vedremo in particolare una funzionalità molto utile presente nella versione Pro di GenerateBlocks, i Global Styles. Iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di questa funzionalità con questa pagina creata col plugin GenerateBlocks. È una pagina molto essenziale senza stili particolarmente curati, ma ci serve solo come base di partenza per il nostro esempio. Vi vado in modifica pagina, analizzo la struttura e vedi che ci sono vari contenitori. Questi sono tutti i blocchi forniti dal plugin GenerateBlocks, ma la cosa che ti voglio far notare è che ogni contenitore inserito in questa pagina non ha alcun valore impostato a livello di spaziatura interna. Non c'era il primo contenitore, neanche il secondo, neanche il terzo e così via. La mancanza di una spaziatura interna all'interno di un contenitore cosa comporta? Soprattutto quando vengono utilizzati su una pagina a larghezza piena. Andiamo a vedere. Visualizziamo la pagina e come puoi già notare anche su un dispositivo desktop come in questo caso, le estremità superiori e inferiori di ogni contenitore sono molto appiccicate al margine. Quindi non è bellissimo perché tutto il contenuto è veramente molto appiccicato, non ha praticamente spazio per respirare. La situazione però precipita in modo vertiginoso quando guardiamo il sito, o meglio la pagina, in modalità mobile. Quindi abilitiamo una modalità mobile, restringiamo la finestra del browser e vedi che la situazione peggiora. Il testo è molto più appiccicato, le immagini sono praticamente incollate al margine sinistro e destro dello schermo e scendendo in basso la situazione è la stessa per ogni contenitore. La situazione è ancora più grave soprattutto quando sono in presenza di blocchi di puro testo e che in questo caso il testo è praticamente incollato al margine sinistro e destro dello schermo. In tutte queste situazioni, quindi nei contenitori, è utile inserire della spazzatura interna in modo da distanziare il contenuto dall'estremità del proprio contenitore. E quindi iniziamo a farlo. Torno in modifica pagina. Ora per sistemare questa cosa io dovrei andare contenitore per contenitore e impostare una spaziatura. Quindi andare qui nel primo contenitore, impostare una spazzatura interna sopra, sotto, sinistra e destra, spostarmi poi nel secondo e anche qua ripetere dei valori, nel terzo inserire altri valori. È una cosa fattibile però immagina di dover ripetere questa operazione per ogni contenitore di ogni pagina, magari avere tante pagine e tanti contenitori, ma non solo. Pensa a un'eventuale modifica futura. Se un domani decidessi di aumentare la spazzatura interna dei tuoi contenitori dovresti ripassare per ogni singolo contenitore andare a modificare i valori. Per questa ragione è utile creare degli stili globali che permettono di impostare lo stile una volta e poi replicarlo facilmente, assegnarlo facilmente a tutti i vari elementi. Ora vedremo un esempio dei stili globali applicati ai contenitori, ma gli stili globali in Generate Blocks li puoi applicare anche altri elementi come ad esempio le headline, l'immagine, i pulsanti, in modo da avere degli stili pronti all'uso per personalizzare i tuoi elementi. Quindi al momento chiudiamo questa pagina e ci spostiamo nella sezione Generate Blocks Global Styles. Questa pagina di default è vuota quindi andiamo a creare il nostro primo stile. Lo aggiungo, lo chiamo container, potrei chiamarlo anche contenitore in un'altra maniera, lo chiamo così perché in questo global styles andrò a creare gli stili per i contenitori e da qui vado a inserire un primo contenitore e gli vado a dare un nome. Ad esempio lo chiamo box-medium. Una volta assegnata l'etichetta a questo stile posso andare a inserire le prime personalizzazioni. Mi sposto quindi qui nella parte spazzatura interna e in questo caso decido che i miei valori standard di spazzatura interna sono 32 pixel sopra, 32 pixel sotto, 30 pixel a sinistra, 30 pixel a destra. Ricorda che non esistono valori giusti e sbagliati, dipende molto dalle tue necessità e da come ha impostato il sito e quant'altro. Questi qua sono dei miei valori base che voglio utilizzare qui e clicco salva bozza. Già che ci sono però voglio creare anche altri due stili. Quindi aggiungo un altro contenitore e vedi che viene aggiunto qua sotto e anche in questo caso gli assegno un'etichetta. lo chiamo box-small e nelle spaziature imposto sempre a destra e a sinistra 30 pixel però in alto e in basso gli assegno che so un 24 pixel e qua un 24 pixel. Ne creo un altro. Questo lo chiamo box-large. e gli assegno un 64 pixel di spazzatura sopra, 64 sotto, 30 a sinistra, 30 a destra. Creo un altro contenitore. Questo lo chiamo extra-large, large x e gli assegno una spaziatura superiore di 80, uno inferiore di 80 e ai lati sempre 30 e 30. Vado a pubblicare e torno nella mia pagina. Una volta che ho fatto questo posso andare a selezionare il contenitore che desidero, come ad esempio questo primo, e ora che per i contenitori ho creato degli stili globali mi compare questo pulsante, questo interruttore che mi permette di attivare gli stili globali per questo elemento e da qui posso scegliere lo stile appena creato e come vedi qua trovi le etichette che abbiamo definito poco fa. Ad esempio, questo primo contenitore scelgo il box extra-large e vedi che viene applicato subito. Il secondo contenitore applico uno stile globale, in questo caso proviamo il medium, ok. Questo secondo proviamo il large, quest'altro proviamo il medium, anzi diciamo il large anche qua, e l'ultimo applichiamo, che so, uno small. Vado ad aggiornare, visualizzo, ora come vedi è tutto molto più ordinato e c'è maggiore spazio tra i vari elementi. Inoltre, se vado in modalità responsive, vedi che i contenuti non sono così appiccicati al margine sinistro e destro dello schermo, appunto perché ora ho impostato una spazzatura interna per i vari box. Avrei potuto farlo anche senza i global styles, ma in questo modo ho creato 4-5 stili che posso facilmente riutilizzare all'interno di tutto il sito, ma non solo. Se ad esempio ora decidessi di variare un po' la dimensione del mio stile extra-large, come ad esempio l'ho applicato in questa testata, mi basta tornare nella mia bacheca, andare in generate blocks global styles, andare in container, mi sposto qua sul mio contenitore box large x e decido che il margin superiore sia di 96 pixel, quello inferiore di 96, aggiorno, torno a vedere la mia pagina, faccio un refresh e vedi che la spazzatura è aumentata. Se ora vado a investigare, rispezionare questo contenuto, vedi che il padding è 96 pixel sopra e 30 pixel ai lati. La classe applicata è questa, gb-container82c03084, che è la stessa definita qui, perché lo stile viene creato con questa classe, la label è semplicemente il nome che noi possiamo assegnare per scegliere più facilmente gli stili che abbiamo creato. Volendo puoi creare stili anche un pochino più sofisticati, più ricchi di dettagli, ad esempio possiamo creare un nuovo contenitore, lo chiamiamo box colorato, ok, definiamo in questo caso un padding intermedio, ma gli assegniamo anche altre caratteristiche, ad esempio possiamo assegnare un bordo di 2 pixel colorato, gli assegniamo anche uno sfondo, gli possiamo assegnare anche un'ombreggiatura, quindi andiamo anche attivando un'ombreggiatura e così via. Aggiorniamo, torniamo a modificare la pagina e supponiamo di applicarlo all'ultimo contenitore, quindi ci spostiamo sull'ultimo contenitore, anziché assegnargli il box small, andiamo box colorato, ed ecco che viene applicato sulla pagina. Da notare che quando applichi uno stile globale, come in questo caso, hai comunque la possibilità di intervenire per modificare alcuni aspetti in questa istanza specifica, quindi in questo blocco al quale è assegnato lo stile globale, puoi comunque effettuare modifiche in questo modo, quindi se ad esempio in questo caso specifico voglio modificare la spazzatura interna e dico qua voglio che sia 16 pixel e basta, ok, dappertutto, la posso modificare e in questo caso specifico la modifica sul singolo elemento alla priorità rispetto allo stile globale. Alcune avvertenze. Visto che gli stili globali vanno a creare tutta una serie di classi CSS che vengono inserite nel codice della pagina, è buona norma creare solo quelli che servono veramente, quindi evita di farti prendere la mano e creare 400.000 stili globali da utilizzare sul sito, perché altrimenti andresti a pesantire le pagine con del codice in eccesso. Volendo c'è la possibilità di creare più stili globali, quindi ad esempio se io clicco Add New, qua lo chiamo pulsanti, posso creare un'altra famiglia diciamo di stili globali dedicati ai pulsanti, oppure posso creare anche uno stile globale di questo tipo e lo salvo in bozza e utilizzo questo stile globale come parcheggio per gli stili che temporaneamente non mi servono. Ad esempio se dicessi che questo stile globale box colorato che ho appena creato non mi serve più ma non voglio buttarlo via, lo copio, lo elimino da qui, torno indietro e vado nello stile globale che è in bozza e lo incollo e salvo la bozza. Così facendo mi tengo una sorta di libreria di stili che temporaneamente sono in bozza quindi non vengono inseriti nel codice delle pagine e se un domani dovessero servirmi posso o pubblicare questa bozza stile oppure semplicemente entrare, copiare questo stile, tornare qua nel mio container e incollarlo. Così mi ritorna attivo. Come ti ho detto prima gli stili globali puoi applicarli anche per altri elementi quindi se noi torniamo un attimo indietro creiamo un nuovo stile chiamiamolo headline ma puoi chiamarlo come vuoi e in questo caso andiamo a creare una headline inserisco un testo a caso e vado a personalizzare lo stile. E qua definisco che lo stile per questo testo sia una dimensione di 6 rem, anzi forse un po' troppo, facciamo 5 o 4 rem, ok. Definisco un'altezza della linea a 1.2 m, una spazzatura caratteri meno 0.03 m, così i caratteri sono un po' più ravvicinati, la voglio tutte in maiuscolo e il peso extra black, una cosa di questo tipo. Volendo potrei segnare anche un colore però in questo caso non mi interessa. Vado a pubblicare, torno sulla mia pagina e se volessi assegnare che so a questo titolo il nuovo stile mi basta anche qua abilitare stile globale, scegliere headline x e inoltre quando applico uno stile ma sull'elemento era già stati applicati stili locali mi basta cliccare questo pulsante per ripulire questo blocco all'impostazione predefinita e applicare solo lo stile creato con il mio stile globale. Vado ad aggiornare, visualizza ed ecco qua la mia intestazione. Se io utilizzassi questo stile in 40 pagine del mio sito mi basta in caso di modifica tornare in generate blocks global styles, headline e andare a modificare questo stile ad esempio cambiando la dimensione il peso del font e automaticamente la modifica sarebbe replicata per tutte le intestazioni che utilizzano questo stile globale. Se utilizzi generate blocks soprattutto la versione pro perché questa funzione è disponibile sulla versione pro è molto utile utilizzare gli stili globali perché permettono di sia risparmiare un sacco di tempo sia soprattutto organizzare meglio il tuo flusso di lavoro evitando di dover ripetere sempre le stesse cose più e più volte e soprattutto facilitandoti la vita in caso di modifiche in un secondo momento. Mi auguro che abbia trovato utile questo video e ti invito a iscriverti al canale e attivare le notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti. Se inoltre ti interesserebbe vedere approfonditi alcuni aspetti di generate press e di generate blocks fammelo sapere nei commenti.